Ben ritrovati dalla redazione di Firenze Smart, Cesare Martignoni, vostra compagnia. In A1 in direzione Bologna troviamo traffico rallentato per traffico intenso tra Firenze Scandici e il BV1 variante di Valico. Traffico rallentato anche tra Valdarno e Firenze Sud. Tra Firenze Sud e Firenze Scandici in direzione Bologna coda per un mezzo fermo o in avaria al chilometro 294. Attenzione blocco della circolazione in piazza stazione a Firenze lato palaffari per incidente. I principali lavori in settimana a Firenze in via Piantanida, in orario notturno, in via delle Magnolie, via delle Morgagne e diverse altre vie connesse agli incroci tranviari. Manutenzione in via de Gori e in via di Ripoli, Nuoviallacci, in via del Campuccio e in via delle Panche. Altre info sul nostro profilo X. Si ricorda che fino alle 21 di oggi c'è lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper, Trenord e SAD proclamato dalle organizzazioni sindacali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!